ciao e che c'è qua darky mecherina che già sparano come dei matti ritorniamo sul fantastico mondo di borderlands ciao ciao ragazzi con tab c'è la mappa ricordate ma secondo voi è possibile tornare a avere i menù dritti ah non sto capendo niente di queste cacchiate mi fanno incavolare mi fanno ma mi lancio si mi lancio e non puoi morire in questo gioco come non puoi morire cadendo non muore ma c'è i ciccetti incazzosi da un biomongolo sì ma come dicono i nostri fan sta pistola sembra una graffettatrice infatti fa caga io sono in giro sempre con sta cacchio di pistolino oh io c'ho il fucile a pompa da un colpo solo ma domanda anche voi potete tirare i pugni ai sassi e scoprire la roba che c'è dentro con cosa prendete qua che c'è un pipettone venite qua dov'è qua a perché persa energia capitan findus ha detto si esattamente cuccioli io devo mettermi l'attacco non è il momento esatto per fare questa cosa questi vanno abbattati ragazzi vai vai fate voi che io devo mettermi l'attacco si 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 corpo a corpo ok ero già utilizzato per cosa ero utilizzato vabbè arrivo occhio il trap trap eh cosa stai facendo che stai sparando a caso a caso ehi sono venuto le emulizioni qua rotto questo è che mi sa che è il villaggetto iniziale dai ragazzi si 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 con le mie missioni chi è che sta sparando occhio che brutta gente che c'è in giro come si carica l'energia con le fialette e come si fanno si trova in giro ma non c'è l'inventario non è che devi craftarle no dipende ci sono le fialette sono quelle istantanee l'inventario puoi mettere solamente i medikit ma li prendi dopo solitamente a posto ah e questo vuole mazzate a posto sono mezzo morto devo trovare robaccia ma cosi dove? è rotto qua vedete energia ragazzi? no no oh ragazzi fuggi la pompa con una munizione sola che palle ma cos'è che bisogna fare? seguiamo clap trap dai clap trap ma sto robotino ha rotto le scatolette io l'odio non lo sopporto è veramente palloso ragazzi questi sono mostri a ammazzare dove? c'è un cimitero con mosti da uccidere io mi ci avventurerei andiamo andiamo che temeano a quarto livello occhio questo meno forte infatti sto già morendo che tiri che tiri uuuuuh uuuuh uuuuh ehi dark game che tu sei grosso vai avanti eh si ma ho 33 di vita uuuuuh sto risuscitato ragazzi uuuuuh 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 ecco mio fuzione a pompa per tutti voi energia 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 che che le vuole io son senza uuuuuh 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 bravi ragazzi bravissimi il giubbotto non c'ho munizioni che sfattica che sto facendo ragazzi non c'ho vita non c'ho munizioni uuuuuh vediamo se mi ammazz uno la posso fare? senza munizioni vediamo se non riesco a fare così continua a sparare a me che son morto ahahah che idiota sono senza energia ragazzi se no vieni qua vieni qua no ma ha tirato l'ammazzata eh ce la fai ad ammazzarlo? eh no ma ha tirato l'ammazzata io non avevo munizioni ho cercato un corpo a corpo ma non sono di certo l'ideale per un corpo a corpo i ciccette dovrebbe ammazzare il corpo a corpo vabbè mi arrendo eh ma c'ho 17 di vita proviamoci eh noi a 17 vita combattiamo anche con 4 ciccettini vedi? ahahah bravo così si fa respawn dov'è che sono arrivato? dove sono? eh niente ragazzi la fuggiamo a gambe elevate eh non ho capito dove cavolo mi ha fatto aspetta se io lo uccido a pugni devi avvicinarti postamento annullato darky me a terra ci ho morto ok l'ha ammazzato quel minchione ragazzi cos'è sto tunnel? il tunnel carpale allora darky me se non ha suscitato ah si puoi dietro è per quello dai muoviti dove vai? girati dove vai Didi? girati vediamo sotto la tua terra ma ma che devi andare giù veteranus? io ho passato di livello allora spostamento da un lato a una terra spostamento da un lato a un lato a un lato geledan esce dal menu ho passato di livello che c'è dal menu cheledan? veteranus non possiamo muoverci scendi non devi andare di lì eh? devi andare giù di qua eh? ma scusa qua ci sarà un motivo no? e quello da dove siamo arrivati? vabbè ma io non sono al menu sono dentro eh? ah scusate scusate se ne ne vediamo vabbè sto guardando come si faceva crescere lo spostamento ha cominciato voglio capire cosa sta qua 3 2 1 ma quello torna indietro cosa avete fatto? perchè veteranus vuoi torna indietro? ah ecco perchè via andiamo voglio capire cos'era cosa è successo? chi è che c'è? dai niente non preoccuparti ragazzi è veramente noioso dove siamo adesso? ci siamo tornati via prima va bene a posto dai io sono passato di livello ragazzi fatemi vedere cosa ho scoperto tu ci siamo passati di livello immagino ah è tutto uguale tutto di si ah ma avete lurcato punti esperienza io sono a livello 3 eh allora mettiti i punti di abilità e come si fa? e schiaccia la i vai dentro io ho messo già una prima abilità e poi c'è un'altra abilità prima abilità cos'è? riscatta gettone questa cosa vedi c'è un riscatto gettone poi punti abilità veri non ce ne sono ancora figli una ricompensa danno granate energia massima precisione arma direi energia massima io ho messo il livello di ricarica ma io non ho capito dove si schiaccia riscatta gettone dove c'è la medaglietta e non so da quando si inizierà a prendere i livelli seri distruggi il caricatore che cazzo vuol dire distruggi i caricatori questo si spacca figlioli benissimo perfetto i blocchi di ghiaccio si fracassano ci sono delle sfide qua così non sto capendo l'avete viste? no dove sono le sfide? e quando vai nell'inventario si vai nell'inventario c'è la freccia a destra si e scusa quando vai nella parte delle abilità si poi con la freccia a destra ci sono delle sfide categoria operete le sfide per ottenere oggetti per la personalizzazione a livelli duro ah ok eh niente devi fare qualsiasi lì insomma distruggi il caricatore ahia muoio si devi ammazzare un certo numero di cose ok perchè adesso la bottina è caduto? ma soprattutto ci sarà ancora l'abilità nelle singole armi secondo voi? vera cosa ho screcciato? si consegnute si che c'è esco salta questa sequenza non si può hammerlock lo voglio anch'io quel braccio mi sembra che scemo ma non lo sopporto va bene ma dove veste qua? ah qua qua ragazzi grazie ti viene andando al cancello ah vado io a togliere l'elettricità aspetta ma no apre lui qua bisogna fare l'ha già fatto ma quanto parla questo anche questo a quanto pare ai crimson rider farebbe comodo un eroe come te ah è già aperto cosa vuole questo? cos'è? gliel'ho dato gliel'ho dato l'occhio del robot negozio c'è il negozio con le armi ragazzi ma funziona? si si ah bene per fortuna ma i denari sono condivisi? che ne so io ne ho 140 ma sono tutte pistoline che palle no ne ho 100 eh attenzione che non sono condivisi allora eh si ti pia e buttate e buonanotte c'è lo zaino di tutti vedo hai visto? vabbè io c'ho un'arma a buttare via qua costa 100 via costa venduta venduta? ho venduto una pistola e non la uso e adesso abbiamo sempre 100 ah è interessante c'è un cannocchiale in cui si vede un bucho di indossie e prendi un'arma? abbiamo 122 e veterans io vedo 100 ancora anch'io vediamo se esco rientro io 124 102 102 anch'io probabilmente i soldi che faccia tiriamo su boh magari quelli che vendi per i fatti tuoi sono tuoi personali beh tanto io comunque qui non c'ho niente da comprare eeeh io non sto capire dove è il confronto con quello che ho eccola qua e soprattutto come si vedono le abilità eeeh vale si capis niente? dai fa cagare questa roba ho un reserve repeater e un fast revolver ma mi sa che vi do la stessa cosa che tutti eeeh ragazzi usate sto cannocchiale ho fatto partire ho fatto partire la registrazione vieni qua vederanus dove sei? dove sei? eh ragazzi che magra figura con chi ci guarda ma che figura è? sto ma non siamo capaci di fare niente la gente parla qua eeeh pure sentire gli scemi che litigano vorrei tanto un fucile da cecchino oh ragazzi non so che dirvi così io non compro niente vado a arrabbare roba a caso vediamo inutile? si ma quest'arma fa cagare comunque e poi non qualcosa di meglio perfetto ho preso dei soldi e sono a 152 io e voi? 115 ok quindi quelli che raccogli da terra sono condividi quanti ne hai? delle vendite no io ho 152 tu darkin? 115 va bene andiamo alla prossima missione allora sono divisi probabilmente sono moltiplicati per tutti perchè io mi sono comprato un'arma e ho 29 è l'unica cosa che potevo comprarmi perchè non avevo altro beh ragazzi prossima missione dobbiamo andare dal dal dottore che sta dentro con la casa dove dobbiamo andare? ahh nessuno ha seguito vediamo se c'è qualcosa dentro con la tab ti dice la missione c'è scritto aspetta la corrente indica qua fare pulizia berg hai trovato l'occhio bla bla qui dice trova la corrente aspetta la corrente mi dice aspetta la corrente questa cosa non parla eccolo qui dove sei? tirammerlock dei miei cogliones qua che ci fai? ok hai acceso l'impianto delle mappe delle missioni secondarie allora idiota uè baffetta baffetta il tabellone è rotto i livelli devono averlo disattivato prima di andarsene a secco volevo inserire alcuni lavori da darti ma si e parliamo con lui dai vai parliamo ok abbiamo una missione abbiamo questa città non è abbastanza grande ah ho consegnato una missione veteran ok l'abbiamo quella che abbiamo fatta ah è apparso lo scudo finalmente invio accetta che devo fare accetta presa la missione basta devono ripuire il cimitero e lo stagno andiamo al cimitero il cimitero è già pulito sono nati i nuovi mostri eccoli da vi siete? occhio che ci hanno già mennato una volta è quello il cimitero però adesso abbiamo lo scudo vuol dire abbiamo lo scudo? e ti vedi che ti ha fatto lo scudo ah ok si no lo scudo è deciso di default e prima eravamo senza io miro la testa la testa fai critico vieni qua che ti tiro la cartella è pezzo di fango vieni qua vieni qua meno uno benissimo meno due ammazzata ragazzi c'è quello di quarto accartellate accartellate guarda vai contro quello di quarto livello che muori titolo scudo e poi vai 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 bravo tu attiralo che io lo meno lotta per la vita crepa crepa sparali spara lì e un aria è libera dai bully mong fatto fuori e si ma lo dovevo ammazzare io ma solo io ammazzare la gente posso aiutarti? dai fermo dai fermo dai fermo e rianimo eccolo qua sto rianimando benissimo puoi provarci? ah ok ragazzi quindi cerchiamo di rianimarci ci siamo? ho trovato un pipettone mio aspetta vai vai andiamo al prossimo obiettivo pipettone dritto qui davanti dove? davanti a noi eccolo la e c'è in alto a destra una mappa che brillucita si 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 ah semplicemente consegnano la missione forse no 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 abbiamo un'altra cosa da fare eh bisogna andare in sottofondo bisogna liberare due cose bisognava liberare vediamo qui qui c'è un pupazzetto di disegnato cos'è? ah il cambio del serpente e il cambio del coso cos'è il cambio del che? il cambio del aspetto ah ma che schifo ecco una stazione di personalizzazione puoi usarla per cambiare il tuo aspetto e per ripristinare i punti di abilità ma è il papa blu qui si fa il respect insomma in qualche parola benissimo allora la missione cosa diceva? guardiamo ripulisci lo stagno bisogna andare allo stagno lo stagno lo stagno sarà qua sotto ah no allora c'era una leva eccola è sotto il ponte lo stagno forse si esattamente qua vieni qua cartelle cartelle quante botte ragazzi fuori fuori fatto benissimo possiamo consegnare però vediamo se c'è la barra nuova io ho poche munizioni caspita qua eh non c'è tant'uno io viene il primo di x per fare uno scambio possiamo anche scambiarci le armi se ci avviciniamo eh qui ci sono robe da spaccare dobbiamo consegnare ragazzi ho trovato un oggetto strano direi di andare a consegnare e anche di chiudere siamo quasi in vittima ho trovato un oggetto strano scusami guardo ah ecco qua che cos'è supernova sblocca questi colori per il sistema catch a ride quando ho utilizzato ma chi se ne frega va bene andiamo a consegnare la missione direi di andare a consegnare e poi siamo e poi è finita la puntata questa entusiasmante meravigliosa puntata dove siete passati? dalla salettina cioè io ho un'arma di potenza 28 ah buono e non lo sapevo che arma è? se un fucile a pompa dalla me un revolver ah va dalla lui e io cosa uso? ah io... consegni tu? si si io cos'è che ho qua? io ho un repeater e una pistola una ready pistol no no pistola, una pistol danno 13 ma ha dato anche a me un mitragliatore si te l'ha dato lui? si allora io ho... vabbè scusate salutiamo i ragazzi e poi vediamo ste minchiate benissimo a tutti ciao ciao